vuoi vendere la tua casa prima e meglio ti presento la collega che lo farà anche per te ciao sono elena rughetto di elena rughetto compravendite immobiliari di merate sono video agente immobiliare da quasi due anni con risultati sorprendenti decine di persone ti possono confermare che ho venduto la loro casa prima e meglio grazie